Possono le buone maniere migliorare la nostra comunicazione? Certo che sì, oggi lo vediamo in questo video. Quando si parla di comunicazione si parla fondamentalmente di rapporti interpersonali, quindi abbiamo a che fare con altre persone e se amiamo le buone maniere e sappiamo che queste principalmente servono per dimostrare rispetto nei confronti altrui, anche nei nostri, ma in questo caso si parla del rispetto nei confronti altrui. Il rispetto è la base da cui si parte per allenare la capacità di ascolto e questa parola, ascolto, è la parola magica, perché non c'è miglior comunicatore al mondo di chi sa ascoltare. Oggigiorno siamo tutti molto bravi a parlare, ma non tanto ad ascoltare. Ecco, in questo senso le buone maniere ci aiutano molto ad andare verso questa capacità, a svilupparla e a rendersi conto di quanto sia utile nella comunicazione. Sicuramente essere capaci di ascoltare fa sentire accolto chi abbiamo di fronte, ma non vedete là soltanto sotto l'aspetto dell'altruismo, perché il sapere ascoltare, di conseguenza il far sentire accolti chi c'è di fronte, fa sì che predisponga il soggetto o il gruppo con cui stiamo parlando a essere aperti nei nostri confronti e quindi ad accoglierci a loro volta. Quindi quello che vi consiglio io di tenere sempre a mente è che la comunicazione è efficace ed efficiente nel momento in cui fa sì che il nostro interlocutore ci accetti. Per essere accettati dobbiamo accettare, quindi l'ascolto diventa un elemento fondamentale. Mi rendo conto poi che in questo momento scendo un po' in un tecnicismo che fa più parte del marketing, ma guardate che alla fine di tutto si parla sempre e comunque della stessa cosa, e cioè della comunicazione e delle capacità che noi abbiamo e che sviluppiamo per avere dei rapporti intersociali migliori. Perché io associo le buone maniere all'efficacia della comunicazione? Non solo per incitarvi a migliorare la vostra capacità di ascolto, ma anche a coltivare le buone maniere, perché sono queste che in un certo senso ci danno quella marcia in più per essere ricordati e suscitare un ricordo che sia per noi favorevole. E' questo che rende la comunicazione efficace. Quindi quando mi sento dire che le buone maniere sono qualcosa di passato, che ormai non servono più, non sono moderne, non sono attuali, è molto sbagliato, assolutamente sbagliato. Poi tra l'altro se voi notate io uso sempre e preferibilmente il termine buone maniere e non galateo, perché il galateo è già proprio una parola che richiama forse un po' rigidità. Io non voglio che le buone maniere vengano viste così, ma il galateo di per sé non è così. non dobbiamo vederlo in modo rigido, lo dobbiamo vedere come un nostro alleato, quindi le buone maniere sono un aiuto che ci viene incontro quando vogliamo stare insieme agli altri. Poi sorrido anche perché quando mi viene detto così, le buone maniere a cosa vuoi che servano, ma vi siete guardati in giro? Cioè, notate come la gente, non tutta la gente, meno male, però tante persone ormai siano allo sbaraglio. Cioè, già viviamo in una società dove regna l'individualismo, ma l'individualismo di per sé non è preoccupante, è l'egoismo e la non considerazione che fa paura, a volte mi fa davvero paura. Quindi, intanto Billy si è accomodato sul lettino. Dare un po' di importanza e un po' di spazio a queste benedette buone maniere è importante, abbiamo da guadagnarci tutti. E adesso cerco di farvi capire come cercare di crescere a livello di atteggiamento, di comportamento, legato alle buone maniere e una comunicazione efficace vadano a braccetto. Qui è doveroso fare una premessa di base, e cioè la comunicazione non è soltanto comunicazione verbale, anzi, penso che tanti di voi già sappiano e siano consapevoli di ciò, la comunicazione verbale è quella che tra i vari tipi di comunicazione pesa di meno. Ce ne sono tre fondamentalmente di tipi di comunicazione, cioè quella verbale, paraverbale e non verbale. La comunicazione verbale è l'utilizzo delle parole, il significato delle parole. La comunicazione paraverbale ha sempre a che fare con l'utilizzo della voce, però non è più inteso come uso queste parole che hanno questo significato, ma c'è la velocità con cui uno parla, che può essere appunto molto spedita oppure molto lenta. Il timbro di voce, il tono, il volume. Se io urlo, probabilmente a qualcuno posso dare fastidio. Se io invece parlo pacatamente, posso essere più accogliente, ovviamente a seconda delle circostanze. E infine c'è la comunicazione non verbale, che è quella, lo sapete già, non lo sapete, scrivetemelo nei commenti, più importante di tutte. La comunicazione non verbale consiste nella postura. Qui possiamo già fare un aggancio al discorso dell'ascolto. Se io ho una postura eretta, occhi belli aperti, un'espressione del viso accogliente, questo fa sì che il nostro interlocutore si senta ascoltato. Se io comincio a stare così, a guardare di là, capite che chi ci sta parlando può pensare, ma questo mi ascolta o no? E quindi avere una certa postura. La comunicazione non verbale sarebbe la postura, lo sguardo, come muoviamo gli occhi, il gesticolare. Tra l'altro qua apro una parentesi. Tante persone sono convinte che il gesticolare in generale sia da maleducati, ma guardate che non è sempre così. Lo affronteremo poi in un altro video. Quindi il gesticolare, come ci si veste anche, e tanti altri fattori che poi eventualmente potremo approfondire in un'altra sede. Ora, questi tre tipi di comunicazione, se voi andate ad analizzarli, a interpretarli, in base a ciò che le buone maniere vi insegnano, noterete come potete avere una carta in più da giocare. Facciamo degli esempi. Nella comunicazione verbale, se io non ho un vocabolario un po' ampio, e quindi questo si rifà ad avere un certo grado di istruzione, un certo grado di cultura, avrò un modo di esprimermi molto basilare, molto generico, molto banale. Alla fine si rischia di cadere nel banale, e la banalità purtroppo non incentiva l'ascolto, e quindi la comunicazione perde di potenza. Nella comunicazione invece paraverbale, se io devo esprimere un concetto con forza, il tono, il timbro della voce saranno molto importanti. Queste cose qui, le buone maniere, il galateo, ve le spiegano. Allo stesso modo, se invece io devo consolare qualcuno, sarà bene che io sia molto gentile, molto morbida nell'accoglierlo. E anche questo è un atteggiamento che voi riuscite a meglio sviluppare se vi basate sul galateo e le buone maniere. Quindi, altro che regole passate, sono regole molto utili se una persona vuole riuscire anche a far percepire quali sono le sue vere intenzioni. Comunicazione non verbale, ve l'ho già detto prima, ha una postura eretta, questo ve lo insegna il galateo, è importantissima per far sentire, ascoltate le persone con cui state interloquendo. il fatto di non guardare in giro e poi anche solo il conoscere determinate sfumature, tipo il fatto di toccarsi sempre i capelli, toccarsi il viso, c'è un mondo dietro queste cose, veramente qui è solo accennato, però ha un suo significato. E sono tutti elementi che magari presi singolarmente non vi riescono a dire tanto, ma tutti insieme sono una potenza. Perché poi vi parlo della comunicazione essendo io legata alle buone maniere e alla crescita personale? Perché in un mondo dove si riesce a comunicare bene e dove i messaggi arrivano e vengono raccolti, è un mondo più bello da vivere. Tra l'altro viviamo in un'epoca in cui c'è molta specializzazione, c'è molta competizione, molta concorrenza. Sappiate che se volete fare la differenza, e non lo dico solo io, non è una mia opinione, ma è un dato di fatto, dovete imparare ad esprimere voi stessi, ad avere un impatto soggettivo sugli altri, quindi a costruire un'identità, e qui ci si può riagganciare anche al discorso dello sviluppo del proprio stile, quindi la personalità, riuscire ad agganciare la personalità con gli elementi della comunicazione e amalgamarli a seconda delle regole delle buone maniere del galateo. Ragazze e ragazzi, veramente a parer mio, è un qualcosa che vi darebbe una spinta fantastica, ma non solo per una soddisfazione personale, ma anche perché tante persone hanno un bagaglio di sapere, un bagaglio culturale importantissimo, utilissimo, e a volte non lo sanno esprimere. Perché manca questo elemento, cioè la comunicazione efficace, che non deve essere solo efficace ai giorni nostri, ma deve essere anche gentile. Io la metto sempre sul piano dell'evoluzione, cioè a me farebbe tanto piacere che noi esseri umani continuassimo ad evolverci. Invece un po' per le vicende di questi ultimi anni, tra virus, guerre, fenomeni spiacevoli, ho proprio l'impressione che ci sia un'involuzione, e non mi piace, io non sono contenta di questa cosa. Ecco perché sono qui che cerco di parlare, divulgare il concetto delle buone maniere. Ho introdotto questo discorso su Instagram, facendo un breve sondaggio. Alcune di voi hanno risposto, siete state molto gentili, vi ringrazio, tra l'altro anche molto ferrate in materia. potrei anche leggervi le vostre risposte, farò magari un video a riguardo, così le leggo insieme a voi e le condivido anche su questa piattaforma. Nel prossimo video tornerò ancora a parlare insieme a voi di comunicazione, vi farò degli accenni sull'empatia, che è un aspetto molto importante, sull'etica anche della comunicazione. torneremo a parlare di ascolto perché è un aspetto fondamentale e questo per cercare di allargare un pochino il discorso del galateo delle buone maniere e non soffermarci solo ed esclusivamente su come ci si comporta a tavola, come si mangiano determinati cibi, perché quella è solo una parte che riguarda il saper vivere con garbo e gentilezza. Spero che il video vi sia piaciuto, aspetto i vostri like. Ci vediamo nel prossimo video!